UMCS, azienda leader nel settore della movimentazione industriale, da oltre 15 anni con la vendita ed assistenza di carrelli lavatori, termici ed elettronici. UMCS è concessionaria dei marchi Piaggio, Toyota, D10 ed Eurocomac. UMCS lo puoi trovare in località Vattiato, zona industriale Cutro. L'assessore Gian Paolo Mungo, questo pomeriggio ha intitolato il campo scuola al grande atleta Pietro Mennea, che è recentemente scomparso. L'abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Credo che sia nel giorno del Mennea Days l'intitolazione di una struttura sportiva, nella fattispecie di una pista di atletica, credo che oggi in Italia sia l'unico caso durante il Mennea Days. Chiaramente qui c'è tantissimo ancora da lavorare, c'è tantissimo da fare, anche perché dobbiamo omologare questo impianto. Abbiamo già redatto un progetto preliminare, abbiamo già richiesto come amministrazione comunale un finanziamento partecipando al bando nazionale delle infrastrutture del Ministero dello Sport. Siamo in attesa di una risposta. Credo che investire sullo sport, investire sull'atletica e su tutte le altre discipline sia investire sul futuro che sui nostri giovani. L'amministrazione Abramo ha questo obiettivo, investire sui giovani. Grazie. Grazie.